meraviglioso pubblico di Gagano di Torribera sui cintolo 101, 300, 90, 800 iniziamo alla grande con un brava dj ascoltate come iniziamo questa puntata di live giovanni parigi anzi scusate una canzone da dj ovviamente dalla discoteca nazionale non tempe, si un termpe, non ta pene amace se vedi confiando non era di giochi come iniziamo alla fine Grazie a tutti. 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 Sui con...